Il corredo funerario della tomba della regina rientra a Sambuca di Sicilia. Il corredo funerario della tomba della regina di Monte Adranone rientra a Sambuca di Sicilia dopo 136 anni. 16 reperti infatti sono adesso parte del percorso museale allestito a Palazzo Panitteri del già più bello borgo d'Italia, Sambuca, nell'Agrigentino. Sono stati rinvenuti al tramonto dell'Ottocento e sono stati da allora conservati e custoditi nel museo Antonio Salinas di Palermo. All'interno di un'apposita tecca vi sono basi e brocche in terracotta con raffigurazioni mitologiche di guerrieri e hierattiche figure femminili, presenti anche su pellettili di bronzo. Tutti i reperti archeologici furono recuperati da Antonio Salinas che li acquistò per 4000 lire, esponendoli nel museo palermitano a lui successivamente intitolato. Furono scoperti da ignari contadini nel 1886 in cima alla montagna che sovrasta quella che cinque secoli prima di Cristo era Adranone e che oggi avvolge e tramanda una pregevole necropoli in cui spicca la monumentale tomba della regina. All'inaugurazione del percorso espositivo reso possibile grazie alla collaborazione tra il parco archeologico della Valle dei Templi, il museo Salinas e il comune di Sambuca ha partecipato l'assessore regionale e beni culturali Francesco Paolo Scarpinato che ha rimarcato come utile e preziosa la sinergia tra diversi enti nella tutela e valorizzazione di beni storici di elevato pregio. Grazie.